... ... ... Adesso facciamo un po' di storia dello zucchero insieme ad Alfredo Taracchini Antonaros scrittore e giornalista benvenuto con noi a Geo Alfredo allora tu hai scritto un libro che tra poco vedremo molto bello, proprio sulla storia del dolce no? ma quando è che arrivano sulle tavole questi dolci così sontuosi, un po' rinascimentali con le meringhe? ma fin dalla fine del medioevo poi nel rinascimento e soprattutto in età barocca si fanno questi dolci assolutamente straordinari ricchissimi in un clima culturale particolare questo è importante saperlo dove non c'è quella differenza che abbiamo oggi noi a tavola in cui le cose salate sono separate dalle cose dolci dolce, salato, piccante agro nella cucina medievale, rinascimentale e barocca convivono insieme stanno tutti insieme convivono insieme quando arriva lo zucchero? lo zucchero è una grande scoperta che l'Occidente fa con le crociate quindi siamo attorno all'anno 1000 in cui in Medio Oriente si va per difendere il santo sepolcro e invece si scopre questo sapore assolutamente straordinario gli arabi conoscevano lo zucchero gli arabi conoscevano benissimo lo zucchero e probabilmente gli avevano insegnati i persiani i persiani e i siriani a estrarre lo zucchero dalla canna dalla canna Venezia piena di mercanti con l'occhio lungo dice questo è un monopolio che mi prendo io e Venezia già all'inizio del 1300 praticamente importava dal Medio Oriente zucchero e lo esportava in tutta Europa pensa a 1318-1319 Venezia già importava 100.000 libri di zucchero all'anno che erano tantissimi ma è vero che il colore carta da zucchero che è quel celeste un po' così slavato viene dalla carta con cui veniva incartato lo zucchero assolutamente sì ma in che epoca questo? questo si comincia già attorno al 1400-1500 ma se poi dal 1600 fino alla fine dell'800 prima del 900 c'è un colore preciso dice color carta da zucchero che è questo blu molto particolare fatto con questa carta ottenuta impastando paglia e stracci ed era quel colore particolare un'altra cosa legata allo zucchero curiosa e interessante è che c'era un tipo di zucchero molto polverizzato una polvere di zucchero che si chiamava polvere di cipro nel 1700 a cipro accanto a questa polvere dolce tritano il riso e l'amido e fanno la cipria ecco perché hai scritto un libro eccolo qua bellissimo il dolce e il piacere del gusto nella storia un libro che non hai scritto da solo l'hai scritto insieme anche a non leggo qua senza occhiali con Ettore Franca che è il mio maestro è visto l'aboca quasi tutte le cose che ho scritto me le ha insegnate lui io le ho solo scritte ma Ettore è un vero scienziato e quindi bravissimo e per me è stata un'occasione per imparare molte cose questo è proprio un viaggio nella dolcezza no? è un viaggio nella dolcezza intesa in tutti i sensi la dolcezza non solo come ciò che va a finire nella nostra bocca ma la dolcezza è intesa anche come figura come figura allegorica quando sentiamo un bel suono diciamo un suono dolce quando riceviamo un bacio beh sentiamo che abbiamo ricevuto un gesto di grande tenerezza di grande dolcezza quando vediamo un bambino diciamo che è dolce guardarlo melodia viene da miele? melodia deriva da me lo sgreco che vuol dire musica dolce e a sua volta Melos deriva da una parola sanscrita mel che era il termine con cui in antichità si indicava il miele 1574 Venezia all'arsenale i veneziani decidono di fare una grande festa per il re di Francia Enrico III e gli fanno un enorme banchetto tutto fatto di zucchero bianco mamma mia e il re decide di mettersi il tovagliolo sulle ginocchia e anche quello era di zucchero di prendere il pane e anche quello era di zucchero straordinario lavorando in questa maniera come sta lavorando Alessia ecco Alfredo prima lo zucchero intanto diciamo che era venduto dagli speciali in antichità vero? con una grande funzione soprattutto terapeutica medica quindi venduto a carissimo prezzo riservato a una classe specifica che era ovviamente la classe più abbiente infatti questi momenti festosi teatrali con lo zucchero in tavola erano momenti rari riservati alla estrema aristocrazia prima dello zucchero però e questo è il libro che è scritto lo racconta e sono devo dire dei capitoli affascinanti c'era il miele certo prima e durante anche perché poi le classi meno ambienti continuavano ovviamente a usare il miele però quando è che l'uomo comincia a domesticare le api? l'uomo abbiamo quante sono antiche le tracce? le prime tracce? le prime arnie fatte dall'uomo gli archeologi ci dicono che sono del sesto secolo avanti sesto millennio avanti Cristo quindi tantissimi anni fa è stato trovato in Francia vicino a Valencia nella cueva del Ragna è nella grotta nella grotta del Ragno questo graffito che è bellissimo ed è un graffito di 7000 anni prima di Cristo e fa vedere questo signore che con queste liane si sta arrampicando per prendere in mezzo alla roccia il miele 7000 avanti Cristo perché ovviamente l'uomo nasce come raccoglitore di miele poi impara a domesticare le api le prime arnie come erano fatte? probabilmente erano fatte o con legno o con vegetali o con terracotta nel periodo successivo però l'uomo si accorge che ovviamente c'è una grande organizzazione dentro l'alveare ed è un'organizzazione che può essere che può essere la domesticata e quando nasce la mitologia del miele? la mitologia del miele questo è molto interessante ad esempio su un grande libro della nostra cultura occidentale che è la Torah che è la Bibbia il miele lo troviamo fin dal libro dell'Esodo quando il popolo ebraico attraversa il deserto in questo posto dove ha fame, ha sete dove c'è il sole che lo sta bruciando c'è questa grande promessa dove stiamo andando? stiamo andando nella terra dove scorre latte e miele e questa cosa è molto bella perché il miele diventa non solo il luogo e l'alimento che nutre il corpo e dà piacere al corpo proprio perché è dolce ma diventa anche probabilmente la figura del luogo dove potremo vivere non con amarezza non con conflitto non facendoci del male ma con dolcezza quindi dove c'è l'atte e miele c'è l'abbondanza del latte dei popoli pastorali e la tenerezza e le coccole del miele poi lo ritroviamo il miele nel Vangelo ad esempio Gesù non mangia mai cose dolci e non mangia mai miele l'unico che mangia miele in tutti e quattro i Vangeli è San Giovanni Evangelista che dice si nutriva nel deserto di locuste e miele selvatico il che vuol dire che già allora duemila anni fa c'erano due tipi di miele un miele coltivato dall'uomo e un miele selvatico che è quello che mangiava San Giovanni ce ne sarebbe da dire magari tornerai un'altra volta grazie ad Alfredo Taracchini Antonaro grazie a tutti